Focus su orificeria e tecnologia d'Oro Rezzo 2022, l'edizione che segna il ritorno in presenza della Kermess di Italian Exhibition Group dedicata alle eccellenze produttive dei distretti oraf italiani e internazionali. Un format di ripartenza dinamico tra esposizione, workshop e networking con eventi in fiera e in città, i cui temi spaziano dalla manifattura al design per offrire un'occasione di incontro e relazione tra i professionisti dell'orificeria. Molteplici palcoscenici di orarezzo dai padiglioni della fiera a retina alle principali piazze del centro storico. Domenica 8 maggio spazio alla sostenibilità con Confindustria Federorafi, il workshop tecnico La sostenibilità come lascia passare per il futuro offre una guida per aumentare la consapevolezza circa le richieste del mercato. Frutto della collaborazione con IEG e la consulta orafa a retina propone un confronto sulle certificazioni in ambito di circolarità e tracciabilità dei metalli preziosi e sul ruolo della sostenibilità della filiera come chiave di valorizzazione della supply chain in termini sia di creatività che di innovazione, specialmente nel mondo del lusso. Domenica sera la sede di Sugar in Corso Italia ospiterà la premiazione del concorso premier, a decretare tra i gioielli in gara la migliore interpretazione del tema del bracciale in termini di manifattura orafa italiana e design, la conduttrice televisiva Giosquillo, 58 le aziende che hanno presentato le proprie creazioni al baro dei giurati, professionisti della gioielleria, della moda e della comunicazione. E poi l'esperienza di Oro Arezzo prosegue anche fuori del quartiere fieristico. Lunedì assieme a Conf Guide Conf Commercio Arezzo IEG accompagna i buyers internazionali ospitati in un tour experience alla scoperta del patrimonio culturale e artistico aretino.